Esercizi di Bodybuilding Ok? Primo esercizio, carco manubro in concentrazione, saranno 5 serie da 15 con pause di un minuto. Ok? 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 Secondo esercizio, sempre un esercizio di concentrazione, subito per la contrazione di picco, che sono 5 serie da 12, è importante quando sei alla fronte, contrarre bene, allungare e poi scendere, questo lavora molto sul ciclo del bicicletto. O. 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 Allora, terminati i due esercizi di concentrazione di allenamento, adesso inizieremo con due esercizi fatti proprio col peso pesante, belli cazzuti come si dice, faremo calco manubri 5 serie da 6 con pausa di un minuto e mezzo l'ultimo esercizio, faremo il carbidanciere angolato 5 serie da 6, qui si può anche fare leggermente sporco il movimento ok, dato che è l'ultimo esercizio, poi è un esercizio pesante e un po' di cheating si può usare il meno possibile però è meglio, ok? le pause sono di 2 minuti, eh, di 6 ho finito i bicipiti, adesso faremo i bicipiti femorali faremo leccar come primo esercizio 10 serie 2 da 15, 2 da 12, 2 da 10, 2 da 8, 2 da 6 con pause di un minuto ultimo esercizio per i femorali stacchia la lumena 5 serie da 10, 12 ripetizioni con pause di un minuto e mezzo ah 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 ah